Era nell'aria già da tempo, ora il presidente della FIFA Gianni Infantino ha confermato che ha lo studio la possibilità di allargare a 48 squadre la Coppa del Mondo già in Qatar nel 2022, anticipando di fatto di 4 anni l'allargamento previsto e che la maggior parte delle federazioni sostiene quest'idea. Il presidente della FIFA ha dichiarato inoltre che il blocco che l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e l'Egitto hanno imposto al Qatar l'anno scorso non ha influito sui preparativi per la Coppa del Mondo. Gli stadi saranno completati nel 2020 ed è qualcosa, ha affermato Infantino, che non ho visto in nessun mondiale, nemmeno in Europa.